E' una bambolina che fa no 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 no, è così carina, fa no 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 no, è già un tipo come lei, e non l'ho incontrato mai, e è una bambolina che difende come può, dietro alla vetrina, è così no 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 no, però imparerà da me. E' un bacio che cos'è, e' la mia bambolina difende come può, dietro alla vetrina, è così no 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 no, però se lei mi bacerà, lo so che cambierà. Se lei mi bacerà, io so che cambierà. La mia bambolina, non bel dire no no no, so che una mattina la convincerò, e già so che anche un tipo così, un articolo di sanità di sanità e di sanità E' un reggio di sanità, i personali,ses Grazie a tutti